ZAMFI Registrazione di una posizione preferita in una tenda con motore IO Posizionare la tenda nel punto desiderato Premere il tasto MAI o STOP Una volta raggiunto il punto in cui si desidera registrare il punto MAI Tenere prenoto il tasto MAI fino a ottenere una risposta del motore E' stata registrata una posizione preferita Per raggiungere questo punto Da qualsiasi punto del percorso della tenda Premere brevemente il tasto MAI E la tenda si fermerà al punto registrato Se si desidera modificare il punto MAI Collocare nuovamente la tenda nella posizione desiderata Premere nuovamente il tasto MAI fino a ottenere la risposta del motore Quindi la posizione MAI è stata modificata Se si desidera cancellare la posizione MAI da qualsiasi punto del percorso Premere brevemente il tasto MAI La tenda si ferma al punto registrato E per eliminarlo Tenere premuto il tasto MAI Fino a ottenere una risposta del motore Questa posizione è stata eliminata A conferma dell'avvenuta eliminazione Premendo il tasto MAI La tenda non si muove Grazie a tutti Grazie a tutti